È un rammarico, però ci deve essere consapevolezza che in questo momento qua dobbiamo cercare di fare qualcosina in più per dare una svolta a questa situazione. Noi veniamo sempre da belle prestazioni, con un buon possesso palla, però alla fine portiamo a casa poco, quindi deve essere più concentrato sui momenti decisivi della gara. Io credo che ogni partita ha una storia a sé, poi in questo girone credo che a parte 4-5 squadre, dopo le altre sono tutte di livello uguale, quindi come ho detto prima, dopo la fine gli episodi fanno la differenza.